amiche ed amici della lettura salve quanto è importante conoscere se stessi ma soprattutto quanto è importante ascoltare noi stessi di questo e di altro parleremo con l'ospite di questa sera permettetemi di presentarvela subito lei è una donna speciale è una counselor ma è anche soprattutto una scrittrice fatemi dare il benvenuto a laura valera ciao laura ciao alfonso e grazie mille di questo invito è davvero un piacere per me parlare con te come stai io bene tutto ok grazie laura ho tante domande da farti però direi di partire proprio dalle basi per chi non ti conosce chi è laura valera capita ci proverò questa per me è sempre la domanda che mi mette più in difficoltà dico la verità perché è un po difficile definirsi faccio sempre molta fatica a rinchiudermi diciamo proprio perché sono tante cose e tante cose che ero non lo sono più oppure lo sono in modo diverso vabbè inizierò dicendoti un po due cose come dove quando insomma sono nata nel 1972 quindi ho 52 anni sono nata in provincia di milano un piccolo paesino una frazione di ro e attualmente però invece vivo in valcuvia a cuveglio da vent'anni dove ho scelto di vivere in provincia di varese una bellissima valle un paesino di 3000 abitanti che anche una parte insomma nell'ambientazione dei miei romanzi ecco e dunque ti posso dire un po della mia formazione ho fatto il liceo classico poi mi sono laureata in lettere in lettere moderne con una tesi in pedagogia sperimentale sui tempi per le famiglie insomma tutto un lavoro sulla famiglia e queste sono un po sempre state le mie due passioni no la letteratura da una parte la lettura la scrittura dall'altra le scienze umane quindi tutto quello che ha a che fare con l'educazione col sociale in realtà poi mi sono sposata ho avuto i miei due figli che adesso sono grandi quindi autonomi e ho tempo di dedicarmi alla scrittura e ho insegnato per un brevissimo periodo ma poi mi sono molto dedicata alla famiglia e in realtà poi ho coltivato sempre delle altre passioni per esempio insegnato agli stranieri che è una cosa che faccio un po da quando ero ragazza in pratica in forma volontaria e non e per me anche questa perché ho anche una certificazione di itals come insegnante di italiano agli stranieri e questa è sempre stata un'altra parte importante dalla mia formazione perché il confronto con persone che vengono da tutto il mondo mi permette di relativizzare il mio punto di vista anche culturale è sempre stata una grande occasione di crescita anche cioè a me insomma il sentirmi cittadina del mondo capisci io non ho viaggiato tanto ho fatto un viaggio in africa quello sì ecco anche quello è stato importante nella mia formazione quindi tutto il mondo anche del volontariato del volontariato internazionale insomma queste questa dimensione e delle altre culture del rapporto con le persone che vengono da altre parti del mondo che infatti anche questo un po c'è per esempio in uno dei miei romanzi quello ambientato in bolivia ogni inizio solo un seguito c'è dentro un po tutta questa parte di me diciamo però poi appunto ci sono anche altre cose ho fatto per tanti anni la volontaria al centro di ascolto della carita e anche quello è rientrato nella mia scrittura perché la prima cosa che ho scritto è stata proprio legata a farsi prossimo una speranza per tutti è legata a questa esperienza del centro di ascolto e anche qui il tema dell'ascolto no vedi e quindi da lì poi è nato anche il desiderio vedi di approfondire con la formazione per cui ho fatto questa scuola triennale di counseling che è proprio legata a questo a questo percorso insomma legato all'ascolto però che ho sempre tenuto in parallelo allo scrivere insomma che ho fatto più negli ultimi anni quando i figli sono cresciuti e quindi ho avuto più tempo di dedicarmi appunto a leggere a scrivere e a promuovere la letteratura che è quello che faccio più adesso perché una volta terminata la formazione di counselor non ho non sto esercitando a livello professionale la counselor il ruolo di counselor con i colloqui individuali ma mi sono un po inventata tra virgolette questa formula del bibliocounseling che in pratica è come un gruppo che da un po di anni insomma portiamo avanti da quando iniziato facendo il tirocinio per la scuola dove è un po come una biblioterapia in sostanza un gruppo in cui a partire da delle letture poi però si parla di noi si parla di condividono emozioni pensieri vissuti un po come un laboratorio di dialogo di pensiero di ascolto proprio e questa è una cosa insomma qui mi piace molto perché mi permette di mettere insieme queste due cose no la letteratura e l'ascolto il dialogo questo tema del dialogare anche il gruppo in presenza mi piace molto sto provando anche questa formula del bibliocounseling online però ammetto che mi piace molto di più il gruppo in presenza proprio per questo ecco su questo mi piacerebbe ritornarci vorrei invece chiederti come è nata la tua passione per la scrittura o meglio quando è che hai deciso di pubblicare quindi di esporti anche al giudizio dei lettori ecco questo non è nato da molto è nato guarda un po per caso ti dirò perché nella mia attività appunto di gruppi di lettura eccetera a un certo punto con la biblioteca abbiamo attivato una grazie ad una ad un amico che ho conosciuto attraverso tra l'altro l'insegnamento all'italiano per stranieri pensa un po ho conosciuto questo amico scrittore giuseppe della misericordia di varese che è un commediografo scrittore proprio che fa questo nella vita molto bravo insomma ha vinto anche dei premi molto importanti nella scrittura comica e insomma l'ho un po coinvolto fatto a fare dei corsi di scrittura creativa nella mia biblioteca qui a cuveglio e quindi ho partecipato a questo corso e da lì ho iniziato a scrivere capite i miei primi racconti poi ho scritto anche un romanzo che non ho mai pubblicato questo primo romanzo sta ancora lì nel mio cassetto però è stato molto lui diciamo che ha subito mi ha subito spronato ha capito a scrivere ha valorizzato quello che ho scritto mi ha detto ma si guarda insomma e quindi devo dire che ha avuto un ruolo molto importante questo scrittore capisci nel nel darmi coraggio e anche nel farmi un po da maestro ecco dandomi i primi diciamo cimenti delle dritte che poi ho approfondito in modo anche molto autonomo insomma poi avendo anche questa formazione precedente legata insomma un po la letteratura però è stato devo dire davvero suo sostegno il suo incoraggiamento non so se l'avrei fatto di provare a mandare poi ho mandato questo secondo romanzo che ho scritto ecco quello ho avuto il coraggio di mandarlo a qualcuno e l'ho mandato queste tre case editrici non molte dico la verità e tutte e tre l'avevano accolto subito però dopo ho scelto la tripla e con piera rispotti perché è proprio una casa editrice non a pagamento subito apprezzato la professionalità la serietà mi ha catturato lei proprio anche per il ritorno che mi ha dato proprio con una scheda di lettura delle cose insomma e quindi l'ho da lì iniziata questo rapporto con questa casa editrice che non ho più a cui poi ho mandato anche tutti gli altri romanzi capisci perché mi sono trovata davvero bene con lei ecco invece che cosa legge laura valera hai un genere preferito beh io leggo leggo molto insomma infatti ho poi attivato guarda con la pandemia mi sono anche attivato a creare questo piccolo che era questo canale youtube dove promuovo ci sono vari playlist ma la più ricca dei video è proprio quella dei consigli di lettura perché io ho iniziato a fare queste tipo recensioni inviti alla lettura come li chiamo e io leggo guarda a me piacciono soprattutto i classici insomma ti dirò i classici della letteratura italiana ma comunque anche anche autori più contemporanei insomma che amo molto ma anche per esempio dei più contemporanei ci sono scrittori come balsano la viola ardone ma anche vabbè per esempio tabù che mi piace tantissimo e calvino è il mio autore preferito quindi con la verità la letteratura italiana i classici stilone insomma però anche autori di letteratura straniera mi piace molto sempre collegata a questa passione per l'intercultura per le altre culture però ti dirò siccome ultimamente sempre con la pandemia ho iniziato anche a insieme con una piattaforma di prepli così chiamata cioè dove si insegna italiano online ho iniziato a fare anche qui molto così un po per gioco e ho pochissime allievi dico la verità pochissime però mi piace molto questa cosa perché con una due allieve facciamo queste conversazioni letterarie sono persone straniere che stanno benissimo l'italiano e quindi anche lì ritorno molto i classici alla letteratura italiana per proporla loro capito e poi poterne parlare per cui sto facendo questa nuova immersione nei classici però leggo molto perché faccio parte anche dei vari gruppi di lettura o due gruppi di lettura qui in paese un aluino un acuveglio per cui sai è un continuo spazio molto tra gli autori contemporanei per esempio trevi mi piace molto balsano però insomma guardando il mio canale youtube li metto gli autori che mi piacciono capisci fondamentalmente recensisco i libri che 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 ho amato altri magari no ovviamente leggo anche libri che non amo che non mi però mi piacciono i libri scritti bene la letteratura di qualità per me questo è importante anche per questo faccio questi video perché mi piacerebbe che si crei nel chi legge una capacità anche di cogliere subito la qualità del testo la consapevolezza che ha lo scrittore in quello che scrive questo per me è importante anche per questo faccio questo il bibliocounseling dove si parte sempre da testi magari anche da un racconto da un romanzo ma che sia un testo di qualità insomma questo è è una cosa in cui credo tantissimo capito nella letteratura dove c'è proprio una qualità dove lo scrittore riesce andare veramente nel universale e quindi da al lettore la possibilità di riconoscersi di esplorare parti di sé insomma questo per me lo fa quando quando veramente un testo insomma ha un valore ecco purtroppo penso che ci sia davvero tantissimo oggi no di pubblicato che per cui è importante acquisire una capacità di scelta insomma non mi piace tanto leggere per entra come trattenimento la mia è quando leggo mi piace che un romanzo mi dica qualcosa mi smuova qualcosa dentro mi porti a vedere parti di me che magari non ho così 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 chiaro e questo è anche il motivo con cui cerco di scrivere insomma ecco non tanto pensi non pensi però che il l'elemento più importante di un romanzo sia proprio quello di essere un prodotto di intrattenimento nel senso se un romanzo un racconto una storia non non ti intrattiene non ti prende ti annoia e quindi tutto immediatamente dall'altro lato il problema dello scrivere per trasmettere qualcosa di molto personale poi magari ci ritorniamo sulla sulla questione che è tipico un po dei romanzi di formazione secondo te non corre il rischio di essere troppo incentrato sull'autore poco sul lettore e quindi il rischio di diciamo di portare il lettore a chiudere velocemente il libro allora il fatto quello che dicevi all'inizio di intrattenere sicuramente cioè devi riuscire a coinvolgere il lettore il lettore deve scattare il meccanismo dell'identificazione perché un romanzo funzioni questo sicuramente e in questo però quando succede quando l'autore riesce a costruire dei personaggi che sono autentici che vanno a toccare l'umano quelle caratteristiche che sono universali c'è un romanzo di formazione per me non è certo assolutamente sempre centrato sull'autore si tratta come per esempio del mio resto in ascolto ho cercato di costruire comunque un personaggio questo per me è molto importante c'è l'autore e c'è il narratore e c'è il personaggio perdonami parlo in generale non non sto parlando di resta in ascolto il mio dubbio è tu hai detto una cosa interessante si pubblica tanto e questo è vero c'è un rumore di fondo pazzesco nel senso c'è tanto di pubblicato che crea rumore però poi di qualitativamente accettabile neanche altro accettabile percentualmente di meno e quindi diventa difficile cercare qualcosa tralasciando quei classici romanzi usa e getta non quelle che tu legge una volta finisce lì e non quasi ti penti di averlo acquistato però intanto ti ha dato perché magari l'autore o l'autrice a è un abile narratore narratrice ti ha dato quelle ore di piacere e finisce lì il mio dubbio su un certo tipo di narrativa e che possa essere accostata molto alla poesia nel senso molto collegato a qualche aspetto anche della vita dell'autore che però rischia di essere non importante per chi legge vuoi perché non c'è quella quell'esperienza pregressa che ha vissuto l'autore o l'autrice vuoi perché magari proprio quell'esperienza rischia di essere sopravvalutata da chi ha scritto e quindi rischia di impattare negativamente sul sul gusto piuttosto che sulla sulla voglia semplicemente di leggere per svagarsi per trovare uno spazio alternativo a quello che può essere la televisione piuttosto che i social media questo è il mio unico dubbio sì io questa dimensione qui la scarto la scarto proprio sia da lettrice che da scrittrice capito non mi interessa cioè non mi interessa da lettrice la lettura di intrattenimento anche se non non è una cosa moralistica ritengo che va benissimo ci sono dei momenti in cui uno può anche semplicemente avere voglia di svagarsi ci sta benissimo capisci sicuramente ma non è però il mio cioè a me non interessa e non mi interessa neanche da scrittrice quindi da scrittrice io non parto pensando cosa può interessare al pubblico parto da cosa interessa a me quale argomento quale tema voglio esplorare perché la scrittura per me è una forma di conoscenza è un modo per entrare più dentro un conflitto una dimensione che io stessa voglio esplorare e non necessariamente è qualcosa di mio personale assolutamente spesso sì ovviamente nasce da delle mie esperienze o da degli incontri che ho fatto che mi hanno toccato delle corde no e quindi su quello voglio aprire un focus voglio dedicarmi del tempo e allora uso lo strumento della scrittura e come strumento proprio per entrare in quel conflitto in quel tema che quando inizio a scrivere non ho così chiaro nettamente però so che quella cosa mi interessa come è per esempio in luisa e fabio due periferici in contatto era il tema dell'amicizia tra un uomo una donna qui nell'altro era il tema del tradimento della coppia capito parto da una qualcosa che mi ha toccato che può essere mio o anche no ma che poi cerco di di staccare da me quindi costruisco il personaggio stacco da me non sto a parlare di una mia esperienza la mia esperienza c'è magari in parte ma come sempre quando scrivi c'è qualcosa di tuo per esempio quest'ultimo libro resto in ascolto ammetto che è il più tra quello in cui c'è più di me probabilmente c'è più di esperienze mie di vita ecco però non è completamente non è una un romanzo autobiografico ecco resta un personaggio cioè io cerco di lavorare tanto in questo ecco di lavorare sul distacco tra il personaggio e me anche se ovviamente c'è ti dico questo romanzo ultimo effettivamente c'è meno questo c'è molto più di me passiamo a resta in ascolto allora l'abbiamo citato partiamo dal titolo perché questo titolo questo titolo guarda ti dirò a una genesi strana rispetto a tutti gli altri romanzi e gli altri li avevo scelti tutti io i titoli proprio questo l'ho sempre scelto io ma a partire da un consiglio da un suggerimento che mi è stato dato da una psicoterapeuta che l'ha letto dopo che l'ho mandato che conosceva che era insomma una delle persone a cui si fa parte del suo circuito di prima di pubblicare il libro ea perché il titolo originario era trame d'anima in soffitta il titolo che io ora questa persona mi ha suggerito questo titolo e l'ho subito accolto perché è molto centrato perché resta in ascolto è come un po un mantra no che ha un ruolo nel libro questo libro racconta di un percorso di counseling no di questa giovane donna poi magari possiamo dire se vuoi due parole della trama solo però se non facciamo eccessivi spoiler perché da lettore sono molto molto pignoso un pignolazzo su questo ecco allora però è proprio una mantra con cui si lasciavano luisa e roberta la sua counselor ad ogni ad ognuno degli sei colloqui che che vengono un po raccontati nella in una parte della trama no e quindi l'ho accolto e poi perché c'è questa parola l'ascolto che è la chiave del romanzo la chiave tematica e di tutto il testo insomma e dell'interesse che io avevo del messaggio e secondo me anche di quello su cui voglio stare adesso in questa fase della mia vita sento il bisogno di starci sia a livello personale che a livello diciamo di visione del mondo di quello che vedo intorno a me no per questo anche faccio questi gruppi di biocounsel perché sento proprio questo bisogno di di stare e di di ascolto più che parola vedi come dicevamo prima c'è tanto che tante parole e poco ascolto io sento il bisogno a livello personale a livello collettivo di fermarsi no fermarsi e chiedersi dove stiamo andando che mondo vogliamo ecco lo vedo anche a livello di società è presente anche nel libro sulla scuola no quello ciascuno cresce solo se sognato che ho scritto perché anche sulla scuola per me è un momento di fermarsi chiedersi che scuola vogliamo ecco io vedo un mondo che corre vedo un mondo che che corre ma non sa bene dove andare basterebbe basterebbe sul mondo della scuola basterebbe far parlare chi nella scuola ci lavora tutti i giorni al posto di metterci il bavaio potrebbero farci darci la possibilità di dire come dovrebbe essere esatto quello che un po cercato di fare partendo lì nel periodo dell'epidemia il libro lì l'ho costruito proprio ascoltando questi insegnanti perché alla scuola io ci tengo moltissimo no ritorniamo a quella mia formazione la pedagogica che per cui è un mondo che per me è fondamentale un punto da cui ripartire ce lo siamo detti usciti dall'epidemia poi l'abbiamo un po dimenticata dell'epidemia ci siamo detti tante cose belle esatto esatto di treni ne abbiamo persi ritorniamo sul resto in ascolto vorrei chiederti se puoi raccontarci un aneddoto collegato alla stesura del romanzo sì ti racconto un po allora questo romanzo è nato proprio mentre facevo questa questi tre anni di scuola di counseling allora mentre facevo questa scuola di counseling facevo dei colloqui di tirocinio per imparare a condurre il colloquio ho fatto tanti colloqui di tirocinio per fare questo tirocinio si procede facendo delle registrazioni in questo caso anche di audio o anche video per cui la tua formazione avviene molto nel tornare a riascoltarti e questo lo facevo anche quando ho fatto la tesi no sulla mio questo tempo per le famiglie anche lì avevo fatto tutto un sacco di interviste e per imparare questa modalità di interviste aperte eccetera sbobinavo addirittura ore e ore sbobinare queste registrazioni delle interviste che facevano un lavoro noiosissimo però che era stato molto formativo perché tu mentre trascrivi così come mentre ti riascolti ti risenti ti rivedi quindi ragioni stai sulle parole che hai detto e allora questa cosa mi ha fatto venire proprio in mente no vedi è un po stato l'escamotage che ha dato origine alla alla trama di resto in ascolto perché mi sono immaginata proprio questa giovane donna che in un momento di crisi profonda legata alla sua vita con i bambini piccoli questo momento un po depressivo che viveva e quindi andava a fare questi colloqui di counseling mi sono immaginata che appunto in un momento anche per economicizzare era nato questo escamotage con la sua counselor roberta la quale invece di pagare l'onorario gli dava il compito di trascrivere i loro colloqui perché lei stava facendo la formazione roberta erano i suoi primi colloqui no e quindi invece di farla pagare gli faceva fare questo lavoro di trascrizione che però a lei luisa questa donna protagonista serviva è servito questo lavoro perché permetteva di rimanere sulle parole che aveva detto poi per luisa tra l'altro la parola è importantissima è quello che la specificano la sua passione e infatti 50 20 anni dopo quando ha 50 anni luisa appunto ritrova questa cartelletta con tutte le trascrizioni dei suoi colloqui di counseling ed è lì che decide di usare questa luisa che nel frattempo è diventata una donna che scrive romanzi no quindi vedi c'è indubbiamente tanto di me in questo personaggio e lì allora ha deciso di utilizzare queste trascrizioni della dei suoi colloqui di quando aveva 30 anni per farne un romanzo quindi in pratica tutta la trama di resta in ascolto è proprio giocata su questa donna luisa in due fasi della sua vita ci sono due voci narranti c'è la luisa giovane trentenne che fa questo percorso di counseling con roberta la sua causa e quindi capitoli sono proprio un racconto di questo percorso che lei ha fatto ma c'è anche la voce di luisa 20 anni più grande a 50 anni che è diventata quindi una donna molto diversa che sta scrivendo romanzi e che decide di scrivere un romanzo proprio su quella sua esperienza di quando ha 30 anni ha fatto quel percorso insomma ci sono proprio queste come uno sdoppiamento le due voci di queste due donne mi piaceva molto l'idea di giocare su questo è un po il cuore del romanzo queste due voci narranti che sono la stessa donna in due fasi della vita proprio perché c'è un identità che cambia che evolve tutti i miei romanzi sono un po centrati su questo sull'esplorare l'identità che evolve che cambia su come dentro di noi ci sono tante sfumature no che cambiano che crescono e quindi noi siamo sempre impegnati per dirla con tabucchi che è una frase che a me piace moltissimo a configurare la nostra anima cioè a mettere insieme queste parti di noi in modo che siano nelle varie fasi della nostra vita più adeguate più funzionali ci sono magari momenti della vita in cui alcuni aspetti di noi hanno bisogno di avere più spazio rispetto ad altri no e quindi noi dobbiamo essere pronti a cambiare a giocare con queste parti di noi per per riuscire ad adeguarci a quello che la vita nelle sue varie fasi ci chiede in modo e questo è un po il lavoro che fa anche il canse loro in pratica quando incontra le persone li aiuta in questo percorso di ristrutturazione di sé di riconfigurazione appunto della propria identità no vorrei farti una domanda forse un po impertinente possiamo definire il tuo romanzo diciamo un romanzo a metà strada tra il romanzo di formazione e un romanzo diciamo che rientra un po nel nel circuito del self help no perché in effetti ci permette di entrare in una dimensione quella della riflessione dell'auto analisi che non è qualcosa di comune quindi e l'abbiamo detto questo romanzo rotentone a questo percorso di cambiamento e di evoluzione della protagonista due voci narranti due periodi diversi due luise diverse certo non è avuto il timore diciamo di tentare quasi un azzardo nel senso in un mondo come il nostro dove a me viene in mente uno dei casi editoriali della scorsa estate no quello del generalissimo tutto ad un pezzo in un mondo dove noi dobbiamo per forza apparire perché ce lo impone la società dobbiamo quasi rientrare no all'interno di quello piccolo spazio che lo schermo per dare un'immagine che spesso e volentieri non è quella reale parlare di debolezza di un percorso anche sofferto alla riscoperta di un qualche cosa che potrebbe anche non essere essere totalmente genuino ma non essere in linea con i diciamo quelli che sembrano i principi dell'attuale società l'essere l'apparire in un certo modo non ti ha messo qualche dubbio nel senso non è avuto timore della risposta del pubblico che possiamo dirlo è stata positiva però a priori non l'avresti no infatti devo dire che questo sembra che sia piacendo molto quelli che l'hanno letto sono fatto dei ritorni però ti dico la verità questo non era un mio non è mai stato tutte le cose che scrivo una mia preoccupazione sinceramente quando scrivo parto da quello che per me è importante scrivere cioè io sinceramente questo è proprio non è il mio mondo quello di oggi per me siamo siamo fragili abbiamo tante parte di noi e quello che io ho voluto raccontare era quello che era questo questa fatica di crescere di evolvere di cambiare questa giovane donna che stava proprio facendo questo stava accadendo in questo rischio quello di cercare di entrare in un ruolo nel vivere una vita secondo un'idea di quello che lei doveva essere ma tra l'altro lei luisa l'aveva scelto di dedicarsi interamente ai suoi figli l'ha scelto lei no però ha fatto questa scelta a volte il discorso è molto sottile non è molto sottile perché noi a volte abbiamo dei sogni abbiamo delle aspirazioni guarda parlavamo di questo proprio ieri in uno di questi gruppi nel gruppo del biblio county ma questi sogni che noi abbiamo queste aspirazioni bisognerebbe a volte fermarsi stare proprio molto in ascolto di sé per chiedersi quanto sono veramente nostri cioè vengono dal profondo di noi dal nostra parte più autentica o sono delle delle idee che noi ci siamo che abbiamo assorbito magari dal contesto culturale in cui viviamo magari dai nostri genitori dalla nostra storia non sempre quello che vogliamo essere è veramente quello che risponde alla nostra parte più autentica quindi lo stare in ascolto è proprio un cercare di cogliere di noi quello che è il nostro nucleo più originale il nostro vero sé la nostra anima chiamalo un po come vuoi ci sono tanti modi di dire però penso che sia un po questo quello che si tratta di fare è come scolpire un po la propria statua perché poi alla fine devi essere tu cioè il percorso di tutta la vita io la leggo un po così no arrivare piano piano a far fiorire il seme che ciascuno è ma ciascuno è un seme diverso e si tratta proprio di capire qual è cos'è che ti specifica più a te e questo per me anche il compito della scuola dovrebbe essere no come era intesa nel anche nell'origine della nostra cultura se vogliamo andare al cuore della nostra cultura occidentale a partire da socrate dal conoscete stesso dalla scuola era una scuola quello però era una scuola diversa nel senso la scuola di socrate era una scuola rivolta degli adulti la scuola di oggi è una scuola rivolta a dei giovani studenti però anche nella scuola l'obiettivo dovrebbe essere proprio quello che piano piano il giovane studente arriva a capire di se stesso qual è la sua parte cos'è quali sono i suoi talenti quali sono davvero le sue caratteristiche questo è vero questo è vero ma in parte l'obiettivo della scuola è quello di fornire gli strumenti di base per ottenere quella conoscenza che servirà a conoscere a fargli conoscere poi quello che gli piace o non gli piace infatti per esempio sono molto critico sulla lettura dei classici della letteratura alle scuole medie la trovo un inutile perdita di tempo e una sciocca persistenza di una pratica obsoleta data la ricchezza delle permette ci lavoro ci lavoro tutti i giorni con i ragazzi le porti in biblioteca li vedo quando hanno la possibilità il problema è trattarli come dei bambocci i ragazzi hanno dei gusti nel momento in cui si permette ai ragazzi di scegliere lì tu costruisci un lettore consapevole nel momento in cui tu gli imponi di leggere la divina commedia in seconda media tu gli stai bruciando tutta la possibilità di scegliere di qualche cosa che cosa leggere anzi io per dirti includerei anche quelle che vengono chiamati banalmente i fumetti che in realtà sono novelle grafiche il punto sta nel rinunciare a delle pratiche obsolete perché prima si arrivava in terza in terza media rinunciare a quello per costruire una scuola nuova il problema però qual è è quando si carica la scuola di prerogative che non sono prerogative dell'insegnante cioè dal carico burocratico certo alla alla all'essere un surrogato di assistente sociale psicologo psicoterapeuta non è il primo compito della scuola non può essere quello se si scarica tutto addosso al docente il docente non ha la preparazione tu hai fatto tre anni di scuola per diventare una counselor chi viene a mettere in dubbio la tua preparazione un folle ma se un insegnante deve fare anche questo perché magari domani un ministro per andare incontro un ministro di qualsiasi natura colore politico quello che è per andare incontro all'algoritmo dei voti perché oggi ormai dicono le cose in base a come si sveglia la popolazione decide che l'insegnante deve diventare anche un counselor facilitatore dell'ingresso nella società capiamo bene che il ruolo della scuola non è più il ruolo della scuola ma è un parcheggio c'è tanta confusione c'è tanta cosa e tu hai detto molto bene invece ben vengano le figure professionali integrate certo certo che servano a facilitare a fare altro però hai molto hai detto molto giusto è questione anche di modalità di modi in cui tu devi proporre la lettura non certo imporla ma deve muovere qualcosa cioè tu devi il ragazzino alla fine deve uscire con la passione per la lettura per leggere per il desiderio di continuare ad esplorare certo che se tu gliela imponi come un obbligo di fare leggere cose io ti dico per esempio le mie medie non ho mai letto i classici nelle mie medie io ho fatto il liceo classico per la prima volta al liceo affrontato un'altra vita esatto gli anni 80 era differente e lì ho acquistato poi quando l'oretti per la prima volta al liceo eccetera avevo l'entusiasmo per le mie compagne che alle medie se li erano letti già che leggevano i promessi sposi per la seconda volta mentre io al ginaglio era la prima volta che lo leggevo sembrava che già lo sapessero e non avevano più la voglia l'entusiasmo non erano quindi sicuramente è questione di modalità ed erano gli anni 80 figurati nel 2024 quando noi mettiamo davanti è un tema molto vasto il problema è importante questo tema è un tema che andrebbe discusso con chi opera e che soprattutto è un tema che dovrebbe essere affrontato con un minimo di autonomia da chi opera nel settore il problema è sempre che chi decide o chi parla nella scuola ci manca da 20 30 40 anni io ci manco da oggi da da questa mattina alle 11 e mezza quindi c'è una piccola differenza assolutamente io vorrei ritornare un attimo su luisa luisa sceglie di rinunciare al proprio diciamo a un lavoro collegato ai suoi titoli perché cioè che cosa stiamo parlando del qui stiamo parlando del personaggio sì 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 perché questo questo questa luisa che poi può essere la luisa del pianerottolo la luisa che abita nel nel portone di fronte al palazzo in cui vivo prima pensavo prima della parentesi sulla scuola pensavo che noi oscilliamo dalla fomo alla al caregiving e sono due estremi sempre di questa società cioè noi siamo pronti a autoflagellarci metaforicamente parlando se perdiamo quella picco il piccolo evento quella piccola quell'incontro piuttosto che quel programma però dall'altro lato siamo anche pronti a sacrificare qualsiasi cosa per assistere qualcuno che magari non vuole neanche quel tipo di assistenza e mi sembra di riscontrare un po questo anche nella in questo personaggio in luisa la protagonista del tuo romanzo perché rinuncia e lei ha una una storia personale il personaggio una storia personale che poi è il cuore del che emerge a metà di questo incontro di counseling un po una la sua fatica principale un lutto che che ha vissuto che l'ha portata a che ha condizionato anche forse alcune scelte quindi l'ha portata a dare e come se si sentiva il tempo che le manca come sentiva il tempo che veniva a mancare quindi in quel momento della sua vita per lei la priorità era proprio la maternità la dedizione totale i figli e questa e quindi questo l'ha portata a chiudere altre parti della sua identità no e lì nasceva e quindi sintomi i sintomi del suo corpo perché si manifestano poi con dei disturbi alla tiroide gli attacchi di panico il corpo parla no il corpo dovremmo imparare a ascoltare molto di più dice di noi in quel caso i suoi sintomi stavano dicendo in pratica che c'erano delle parti di lei che che non stava ascoltando proprio perché si era messa in questo ruolo rigido di madre moglie casalinga e l'aveva fatto proprio probabilmente a partire da una da un dolore molto forte legato una perdita e quindi alla paura come di sentire che non che quella era la cosa più importante per lei a cui voleva dedicare tutto e anche la paura di essere felice in un certo senso perché a volte accettare di essere felici non è così semplice era come se lei era entrata in questo loop in questo meccanismo dove non si permetteva di essere felice perché gli sembrava che essere felice avrebbe fosse stato come un tradimento per questa persona che aveva perso per questo amore che non aveva con cui non aveva potuto realizzare anche questa maternità e che invece adesso ne aveva la possibilità cioè c'era c'è scatenato in lei a volte nella vita capitano questi meccanismi è molto sottile no per questo è un libro che riguarda molto anche l'introspezione la un po c'è questo tema probabilmente il lettore lo capisce man mano che arriva ma la stessa luisa lo capisce nel corso dei colloqui la stessa counselor lo capisce quando emerge questo questo suo evento del passato questo lutto che aveva vissuto e che lei non ha non si era dato il tempo sufficienza di elaborare di affrontare no era come se fosse voluta correre avanti troppo in fretta per vivere la vita e invece a volte bisogna stare nella sofferenza stare nel dolore e c'è un tempo per ogni cosa no quindi questo anche dice il libro in un certo senso c'è un tempo per tollerare l'incertezza bisogna a volte nella vita accettare quei momenti che una perdita una morte un lutto sono momenti che inevitabilmente ti fanno fare i conti col dolore con la sofferenza e lì è importante starci e non solo volere correre in avanti perché sono dei momenti di crescita importanti bisogna passarci attraverso per poi poter andare oltre e questo luisa non aveva forse fatto ma aveva ancora qualcosa da ridarsi in tempo trovare una stanza della sua mente nel suo cuore per quella dimensione di sé e quindi il percorso di counseling le servirà anche a questo e anche quello sarà il passaggio fondamentale che la farà evolvere la farà cambiare la farà crescere però ha avuto bisogno di farlo attraverso una relazione anche per questo il ca il counseling è una relazione fondamentalmente fermiamoci un attimo su roberta roberta è la counselor che aiuta luisa diciamo a superare questa 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 fase della sua vita in che modo l'hai costruito questo personaggio il personaggio di roberta nasce sai ha fatto questi tre anni di scuola di counseling io stesso ho fatto tutti questi colloqui quindi mi immaginavo un po anch'io nel ruolo di era il periodo in che stavo facendo questi colloqui poi avevo un rapporto strettissimo con i miei compagni di counseling perché il percorso di formazione del counselor è tutto un percorso dove il lavoro maggiore lo fai su di te cioè non è un percorso tanto di conoscenza che impari le tecniche studi delle cose ma lavori tantissimo su di te e quindi in quel in quel periodo anche con i miei compagni di counseling è stato un rapporto bellissimo perché come se abbiamo fatto tre anni di lavoro su di noi e tra di noi quindi anche la relazione tra di noi era una relazione che ci abbiamo condiviso tantissimo infatti anche nei ringraziamenti li cito i miei compagni di corso perché è proprio il counselor è un lavoro che è bellissimo per questo secondo me perché ti porta sempre a stare in ascolto di te cioè il lavoro principale lo devi fare sempre su di te e per questo che molto è molto bella questa tipa di questa professione insomma io ci credo molto e anche quello che fai per esempio anche nell'ascolto col centro di ascolto o comunque quando ascolti gli altri in realtà è fondamentale che tu stai in ascolto di te perché devi sapere quali che sono i tuoi filtri cioè quando ascolti una persona in realtà di cioè dovresti sforcarti di entrare nel suo mondo ma se tu non conosci bene te perché noi abbiamo sempre i nostri filtri il nostro modo di vedere la realtà per cui quello che vediamo della realtà lo passiamo sempre attraverso i nostri filtri mentali lo interpretiamo no e invece se noi però non conosciamo bene questi filtri rischiamo di essere convinti che quello che che abbiamo colto dell'altro sia quello che l'altro veramente è insomma non so se riesco a farmi capire per cui no no molto lavorare su di te perché tu ascolti una persona quella ti muove delle corde e tu devi fermarti e capire quanto di quello che hai letto in quella persona viene da te o quanto è la realtà per quella che è anche se sempre ci saranno questi filtri non non si può conoscere mai la realtà per quella che è in un certo senso però più noi lavoriamo su di noi più stiamo in ascolto di noi più riusciamo a accogliere la realtà un po dell'altro prendere un po le distanze no perché tu sei lì per ascoltare l'altro per aiutare l'altro a vedere meglio dentro di sé a conoscere meglio il suo mondo e poi arrivare a prendere magari delle decisioni se in un momento di difficoltà sulla sua vita ma ma tu non dai dei consigli il canto non sa mai dei consigli è convinto che è il cliente perché è così che è chiamato nella relazione caso è lui che sa cosa è meglio della sua vita ciascuno sa di sé può cosa è meglio no è molto affascinante ma è molto un'altra cosa il rapporto tra luisa e i figli prima e dopo il salto temporale cioè i figli non mi interessa tanto il punto di vista di luisa in questo momento interessa il punto di vista dei ragazzi come vedono questa madre prima e dopo questo non c'è nel romanzo usciamo fuori un attimo una bella domanda è una domanda interessante a cui io sinceramente quando scrivevo un romanzo non pensavo molto perché ero focalizzata su luisa no però la tua domanda è molto interessante e su questa domanda sono stata dopo per assurdo quando tu finisci di scrivere un libro magari dopo tempo quel libro lavora anche dentro di te e tu scopri cose anche di te che non sapevi è molto interessante ha scritto quindi questa domanda io me la sono fatta dopo certo i figli è questa è una bella domanda i figli vabbè quando erano piccoli hanno preso i figli non si scelgono i genitori no e quando sono piccoli subiscono quello che le dinamiche in cui si trovano a vivere non è che le possono scegliere quando crescono però magari a quando si arriva come la luisa 50 anni a quel punto i suoi figli ne hanno quasi 20 come la luisa 50enne fa ha fatto con se stessa e si è riguardata la donna che era così anche con i suoi figli può parlare di sé può parlare della madre che è stata può avere un dialogo sulla loro infanzia e per me questo è un momento di grande arricchimento perché anche i figli hanno diritto di sapere conoscere qualcosa di sé della loro infanzia parlare anche dei con i figli delle proprie fragilità io questa è una cosa adesso ti parlo da madre ti parlo da persona non da uscendo dalla luisa entrando nella nella mia dimensione personale è una cosa che faccio molto con i figli e trovo anche molto bello adesso che sono grandi una figlia di 21 uno di 25 però parlare anche delle proprie fragilità di quello che si è stati della loro storia credo che sia molto importante i figli hanno anche bisogno di sapere e di vedere con occhi diversi e di capire perché tutti noi nessuno c'è di perfetto penso abbiamo dei limiti e e va bene così cioè poi la vita comunque va bene comunque per quello che io penso tutto si può recuperare anche non c'è mai niente i giochi non sono mai fatti cioè non credo assolutamente in quei discorsi sai l'infanzia ci ha condizionato certo che noi siamo quello che l'infanzia che abbiamo avuto lasciato delle tracce però possiamo anche cambiare siamo anche altro no se abbiamo voglia di guardarci dentro se abbiamo voglia anche di parlarne di rimetterci in gioco per cui è insomma è molto interessante molto bella questa cosa e quindi anche i figli della mia per protagonista penso che faranno così un poco anche la luisa protagonista in questo ti dico questo è un romanzo dove c'è tanto di me più di tutti gli altri forse qui la luisa ha molto di mio tanto che questo romanzo è nato uno dei nuclei del romanzo sono tutta una serie di racconti che io avevo scritto molto tempo fa no che ho recuperato il rielaborato in questo test che sono il cuore narrativo dei colloqui di counseling e quindi è un po così la genesi infatti lo scrivevo mentre scrivevo anche altro scrivevo due cose contemporaneamente mi incuriosisce questo il tuo modo di scrivere quindi vorrei passare un attimo sulla sulla laura valera scrittrice tu che tipo di scrittrice sei nel senso come ti arriva l'idea ti arriva all'improvviso un'immagine un evento oppure segui un po quello che succede nel mondo e dice ok è arrivato il momento di parlare di questo ea quel punto poi come funziona segui il flusso butti giù tutto oppure riesci a creare un canovaccio di storia principale le storie sottotrame le schede dei personaggi allora prima di tutto il tema mi viene un po da lontano cioè sono delle temi che in ogni romanzo che ho un tema differente ma che ha lavorato già tanto dentro di me anche negli anni ha iniziato a scrivere a 50 anni ma i temi mi sono nati probabilmente me li porto dentro da un po tutta la vita sicuramente da alcune anche esperienze alcuni anche da alcuni incontri come il personaggio di giulia nel libro sulla bolivia da alcuni incontri da alcune esperienze il libro sulla scuola appunto dalla mia formazione ma anche dalle tante insegnanti amiche che ho ascoltato che ho incontrato quindi i temi qui dal nascono da esperienze e da temi che mi interessano il libro sull'amicizia tra uomo e donna anche lì da esperienze su cui avevo voglia di stare quindi mi nascono da un'esperienza dopo ci costruisco una una storia sì lì allora ci costruisco il personaggio che poi lo lascio anche nascere diciamo sto in ascolto sto in ascolto del personaggio come qui non è che lo costruisco a tavolino capito è come se me lo porto un po dietro ci chiacchiero me lo porto in macchina ci faccio la conversazione mentre passeggio e poi inizio magari a scrivere e quando scrivo in genere comunque già un'idea no della trama quando inizio a scrivere un po ce l'ho nella mente ma non è una trama chiusa perché poi mi lascio portare dalla storia anche perché quando inizio a scrivere come ti dicevo lo faccio perché voglio esplorare quella storia per cui quel tema come l'amicizia non so bene poi cosa succederà perché lo scrivo il libro proprio perché voglio me lo domando mentre lo scrivo come qui il resto in ascolto per esempio alla fine ho quando l'ho scritto tutto dopo la seconda rilettura perché poi i testi hanno una genesi lunga insomma scrivo molto lentamente e ho cambiato anche nel tempo cioè la mia scrittura è cambiata anche molto per esempio il primo libro è la scrittura molto più rapida man mano che vado avanti mi accorgo che sto molto su di più taglio molto di più curo molto di più le parole le frasi i capitoli quindi faccio più un lavoro anche sul linguaggio sulla parola quindi non è che sì c'è un flusso che cerco di seguire ma non una questione di getto istintiva anche perché dopo che ho scritto un capitolo lo rileggo lo rielaboro vado avanti lentamente e alla fine rinizio da capo rinizio a leggere e poi magari cambio come ti dico resto in ascolto quando l'ho finito la seconda rilettura ho cambiato il finale ho cambiato perché ci ho riflettuto e ho sentito che che era meglio modificare alcune cose e che erano più autentiche ecco quindi è un lavoro molto di ascolto il personaggio che ti va ascoltato devi starci viverci con lui vivere le sue emozioni e lasciare che ti dica e come quando ascolti una persona è la stessa cosa tu non sai dove quella persona ti porta la conosce lei la sua vita e te non ti puoi fare un film su cosa è meglio per lei dove dovrà andare cosa ne sarà di lei perché te lo dirà lei devi stare aperto no e così col personaggio stai aperto a quel personaggio a quell'esperienza che ti parla e vedi un po è per questo che mi piace scrivere perché è una cosa che ha a che fare molto con l'ascolto tu hai una routine di scrittura nel senso ai giorni preferiti fasce orarie preferite la mia scrivo magari molto di me alzo molto presto la mattina mi alzo molto presto adesso i miei figli non vivono più a casa con me sono autonomi quindi anche alle sei e mezza mi metto sempre faccio e mi piace molto scrivere la mattina molto presto faccio le mie due cose mi metto lì e magari alle otto e mezzo ho scritto le mie due orette e poi quando ho tempo poi ho anche tante altre cose nella mia vita da fare no e quindi quando riesco a ricavarmi del tempo ecco non è che vivo solo di scrittura perché poi la vita va anche vissuta perché se no dove le trovi le cose da scrivere e quindi ecco non più di tanto non è che riesco a scrivere ore e ore mi piace molto scrivere il mattino presto quando la mia mente più lucida quando mi piace quel momento dell'alba silenzioso che vedi proprio il giorno che si fa ecco la sera faccio più fatica la sera leggo la sera mi piace leggere io leggo tantissimo la sera non vedo molto non c'ho proprio la televisione non la vedo e così quindi più la alba mi piace scrivere e sempre all'alba diciamo ti occupi della fase di riscrittura o comunque di correzione delle bozze oppure quella la sposta in un altro momento della giornata è magari quello sul pomeriggio quando sono più stanca e poi mi sono un po più stanca faccio magari scrivo una cosa al mattino poi quando tempo dopo pranzo quello rete rileggo quello che ho scritto lo risistemo lo ristrutturo ecco quello lo faccio quando sono un po più stanca ma va fatto richiede tantissima lucidità anche quello cioè troppo stanca non riesco a scrivere devo essere sveglia ti è mai capitato di soffrire del blocco della scrittrice beh sì ma sicuramente c'è sì dei momenti in cui non sai bene come anche adesso ho due progetti di scrittura e sto su uno sto sull'altro e non lo so ancora quale faccio anche fatica perché ho in mente una cosa ma ne ho in mente anche un'altra e poi ho un'altra cosa che ho scritto quindi insomma non è facile a volte c'è questa incertezza che ti prende che è anche guarda che è anche una sofferenza scrivere è molto faticoso emotivamente a volte è anche molto faticoso a volte ti dici ma chi me lo fa fare ma sono scema magari anche no ma poi quella storia lì perché la scrivo ti prendono tantissimi dubbi quindi c'è un'inquietudine nella scrittura ci sono tante domande è anche una grande fatica ecco però è anche bello quando hai per esempio ti dico questa figura che mi ha anche spronato a scrivere no quest'amico è stato importante perché a volte devi avere qualcuno o qualche persona che mi legge che che mi dà un feedback quello per me anche il portato confrontarmi delle cose parlare con qualcuno mi aiuta laura nel corso di questa intervista abbiamo abbondantemente parlato di counseling di come viene fatto degli obiettivi tu però hai creato una versione diciamo alternativa in un certo senso che è il biblio counseling ci spieghi di cosa in che cosa consiste sì come ti dicevo prima un po questa l'ho fatto per mettere insieme queste due passioni è nato a partire dal tirocinio che ho fatto perché ho fatto proprio questa tesina questa tesi per fine corso su questa esperienza di un gruppo di donne che all'inizio non voleva essere solo di donne ma hanno aderito solo donne guarda caso che come nei gruppi di lettura si incontrano principalmente donne e quindi con queste decina così di donne ci incontravamo ogni 15 giorni partendo da un testo da una lettura ma dove il testo è come uno spunto per poi sviluppare una condivisione di emozioni di vissuti di temi no e quindi l'obiettivo è proprio quello di favorire l'ascolto è come un laboratorio di ascolto di dialogo perché io questo sento il bisogno capisci anche a livello di mondo sento il bisogno che ci si rieduchi ad ascoltarci ascoltare perché tu leggi un libro poi quel libro parla a ciascuno in modo diverso allora se tu ti fermi e ascolti cosa il libro ha detto all'altro dici ah ma davvero e quindi è come se entri in un'altra forma di pensiero allarghi la tua mente allarghi i tuoi schemi mentali capisci che anche gli opposti possono stare vicini che non c'è solo il giusto e sbagliato c'è questa logica binaria in cui siamo tutti immersi no uno ha ragione una torto anche no la vita è complessa il mondo è complesso ci sono mille sfumature del reale e allora tornare ad ascoltare il punto di vista dell'altro senza pensare che è sbagliato giusto ma che è un altro modo che posso accogliere e arricchisce il mio mondo mi permette di pensare in modo più complesso mi permette di vedere che la realtà che mi allarga il mondo capito mi allarga la mente cresco evolvo e questo è lo scopo del bibliocounseling occasione di crescita personale attraverso l'ascolto dell'esperienza degli altri a partire dalla lettura perché la letteratura per me è una grandissima opportunità di crescita personale perché tu entri nei personaggi e quindi arricchisci il tuo mondo emotivo fai altre esperienze vedi magari la tua esperienza che hai fatto ti riconosci gli dai parola dandogli parola la capisci meglio aumenti la consapevolezza e cresci diventi una persona più consapevole più ricca dare parola a quando tu dai parola crei metti al mondo i pensieri allarghi la tua mappa mentale quello che si fa a scuola no tu sei un insegnante e quello è il tuo lavoro dai parola ai tuoi allievi e in quel senso diventano più consapevoli più liberi e questo è il motivo per cui ho inventato questa esperienza l'ho iniziata con il tirocinio e poi la sto continuando perché ha avuto dei riscontri insomma il gruppo si è voluto tenere insieme sono contente soddisfatte e quindi si è creato anche tutto un percorso di di letture comuni una unità arrivano delle persone nuove c'è questi il fondamento poi sono i principi del counseling quindi il non giudizio l'accettazione incondizionata dell'altro e l'empatia questi sono i tre pilastri che si ispirano a rogers insomma che il fondatore del counseling che anche all'origine della frase che ho messo in esergo e che è la base l'unica richiesta diciamo di chi viene in questi gruppi il non essere giudicante accettare gli altri in modo incondizionato il rispetto del punto di vista anche diverso e questo la voglia di entrare in empatia di ascolto è un po questo ma poi per il resto si lascia assoluto libertà no è proprio un laboratorio e quindi mi ha appassionato questa questa cosa che sto facendo insomma con questo gruppo e che vorrei anche continuare a fare capito creando anche usando la tecnologia come faccio con queste conversazioni letterarie con pretli e anche così è nato poi anche il canale youtube dove promuovo questi faccio queste recensioni perché questa formula di conversare a partire da un testo mandando più sulla propria vita personale è una cosa che mi piace insomma sento molto nelle mie corde ecco tra la versione diciamo offline dal vivo e la versione digitale dicevi all'inizio dell'intervista che la bilancia pende nettamente a favore del diciamo dell'incontro dal vivo certo però però ti dico la verità non io non sono una che per me come ti dicevo ci sono tante sfumature nella realtà prendiamo tutto il buono che c'è cioè per carità anche come per esempio io e te stiamo parlando sento empatia ho fatto un sacco di colloqui di counseling online e funzionano riesci comunque a creare il contatto emotivo anche con una videochiamata ok però indubbiamente la presenza il corpo il gesto la lo amo molto di più ovviamente ma penso come tutti noi no c'è ci sono i profumi sapore c'è c'è il corpo in tutta la sua dimensione nello spazio che si muove ed è insostituibile insomma siamo siamo umani perché siamo fatti di corpo di profumi di odori di tatto di sensi no e guai faccia toglierci questi siamo animali sociali ecco dai diciamocelo poi venga tecnologia per carità ma come risorsa che ma non facciamoci togliere il no assolutamente laura una delle domande che mi piace porre agli ospiti di questo canale è una domanda molto personale vorrei chiederti che cos'è per te la felicità che domandona mamma mia ma ti dirò io la felicità più che felicità mi piace parlare di di gioia di letizia di la felicità la vedo come una cosa ho fatto tutto un percorso di bibliocassos ti parlo più di gioia per me la gioia è quando ti senti al tuo posto nel mondo che è piccolino magari è piccolino ma fai una cosa una cosa sola ma quella cosa che ti corrisponde in cui ti senti in sintonia che senti nelle tue corde non importa il riscontro che hai il successo che ha il denaro che guadagni in quella cosa lì ma se ti va bene a te come quel film lì bellissimo che è uscito adesso perso bene pare si chiamava quello dello dell'omino che puliva giapponese ecco capito quella lì tu stai lì fai la tua cosa che ti senti tua quindi la felicità la gioia per me è questo cammino nella vita in cui tu scolpisci la tua statua ci metti tutta la vita perché togli 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 tante cose inutili tutto il superfluo tante cose che non è necessario fare e non è necessario essere e ti tieni quello che più ti corrisponde e in tutta la vita vai avanti a fare quella cosa lì no a cercare di essere sempre un po più te stesso in fondo perché penso che ciascuno viene al mondo con una vocazione che solo sua e il cammino della vita è un po cercare di piano piano scoprirla di abbracciarla esatto quindi in questo momento ti dico io mi sento un po e poi si cambia evolviamo cambiamo e quindi ci mettiamo una vita anche no a scoprirla sempre un po di più perché cambiamo cambiano le situazioni e quindi lo stare in ascolto è fondamentale per poter essere nella gioia perché stai in ascolto su di te e chiederti che ci stai a fare qui che emozioni provi che cosa è importante per te ecco questa è la domanda che uno si per me fa sempre al cuore torna sempre nei colloqui di counseling torna nei video counseling che cosa è importante per te in questo momento della tua vita no chiediti questa cosa ogni tanto fermati chieditela magari cambia quella cosa importante e allora come puoi come puoi fare poi concretamente per stare per fare quello che è importante per te per essere quello che è importante no e allora lì accadono tante altre cose e va bene così non so se sono assolutamente laura progetti per il futuro che cosa bolle in pentola che ci puoi però dire senza incorrere nelle ire degli editori ma niente sto ti dico io ho letto dei progetti di scrittura un po ne ho una cosa che ho scritto che sta lì adesso nel mio computer non lo so bene lo rileggerò ancora e vedrò cosa fare di questa cosa che ho scritto ci ho messo un po di anni a scriverla ti dirò mentre già scrivevo resto in ascolto stavo scrivendo questa cosa che era molto faticosa allora e adesso l'ho conclusa l'ho revisionata vedrò e questa è una cosa ma nel frattempo lascio lì quella e ho altri due progetti di scrittura che sto un po facendo e ma vedrò ancora non so quale più mi prenderà due temi uno legato anche a cose semplici storie piccole brevi mi piacerebbe tanto ecco questo te lo posso anche dire ma non lo so se poi avrà un seguito però in questo momento sai cosa ti dico che mi piace molto lasciarmi siccome a me piace sempre vedi gli incontri con le persone nasce con quello che faccio al centro di ascolto con le persone che incontro e ci sono certe persone che mi affascinano molto no che sono belle hanno una loro luce una loro una loro qualità di essere che 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 bella no ma poi tutti ce l'hanno un po questa cosa solo che magari tutti abbia hanno questa scintilla però magari in alcune persone è magari un po spenta bisogna ravvivarla in altre brilla di più allora mi piace scrivere questa cosa perché in un mondo che in questo periodo mi spaventa un po capito dove vedo tanti lati bui vedo tante cose che mi spaventano profondamente e le vedo questi aspetti ovviamente come vediamo tutti no perché c'è comunque mi interessa il mondo mi interessa stare informarmi la guerra tutto quello che è in le contraddizioni che ci in cui viviamo le grandi sfide di oggi no che sono veramente grandi di fronte a tutto questo però mi dico che cosa posso fare o cioè posso come diceva calvino una frase per me illuminante posso stare in questo inferno che poi ci costruiamo noi vivendo oppure possiamo scovarne quello che inferno non è e quindi farlo crescere stare su quella cosa lì e dargli luce e allora quello che vorrei fare anche con la scrittura adesso è cogliere questi aspetti di luce magari anche nelle storie di alcune persone e mettere dei bozzetti così persone che sono anche vive persone che magari sono i vicini di casa che ho incontrato ma dargli uno spazio nella mia scrittura se loro vogliono perché possano parlare e possano risuonare agli altri perché sono vite belle sono vite importanti perché hanno saputo anche se non sono famose anche se non parlano magari nei social tutti i giorni non ce l'hanno nemmeno ma sono vite che che hanno realizzato la loro vocazione hanno dato qualcosa quindi mi piace parlare di queste vite anche magari in una pagina no e poi lasciarla lì metterle accanto una all'altra fare come un puzzle di vite ecco di vite belle mi piacerebbe molto questa cosa però non lo so accanto all'altra cosa che ho in mente che però è molto più dolorosa perché l'altra cosa che vorrei scrivere ha un tema invece che è molto doloroso è legato un'esperienza che sto facendo da un po di anni di vita di ascolto e mi piacerebbe scrivere su questo legato alla morte a stare vicino a questo tema però siccome è così doloroso non ce la faccio stare solo su quella cosa lì e quindi credo che scriverò insieme queste due cose se ci riesco capito perché ho bisogno un po dell'una per farmi per riuscire a scrivere l'altra non so se riesco a ho bisogno di questi luci per scrivere su questo tema che invece importante però è anche doloroso ma è anche bello è anche importante e mi piacerebbe far riuscire a scrivere vedrò su hai lasciato il tempo necessario io vorrei ricordare a chi ci ha ascoltato finora che resta in ascolto il romanzo in parte di crescita personale ma anche di consapevolezza di riflessione di autoanalisi un invito un invito a lavorare anche con un counselor resta in ascolto il romanzo di laura valera è acquistabile dal sito della casa editrice da edizioni tripla e sia nella versione digitale che in quella cartacea è acquistabile anche da amazon.it in entrambe le versioni trovate il link in descrizione vi invito a seguire i profili social di edizioni tripla e la casa editrice che ha pubblicato resta in ascolto il romanzo del quale abbiamo parlato questa sera e a iscrivervi alla newsletter per rimanere sempre aggiornati sulle nuove uscite di questa casa editrice e vi invito anche a seguire laura valera non solo partendo dal canale youtube mi raccomando ma anche attraverso i suoi profili social laura io ti ringrazio per il tempo che ci hai dedicato grazie a te è stato davvero bello questa esperienza con te ti ringrazio davvero tanto sei un bravissimo ascoltatore incrocio le dita per il tuo per i tuoi per questo tuo lavoro complesso non voglio dire complicato per questo lavoro che stai cercando di portare avanti nonostante sia neanche avvolto immerso nello oscurità quindi posso solo immaginare quanto sia complicato andare avanti quindi incrocio le dita e faccio il tifo per te grazie e anch'io per te per tutte le tue cose la scuola che è importantissimo abbiamo bisogno gli insegnanti per me sono pilastri fondamentali della vita e grazie mille complimenti per il tuo canale è stato molto bello parlare con te ti abbraccio io forte ciao ciao